Dopo il fermo partito ad agosto è ripresa la pesca in tutto l'Adriatico, a darne notizie col diretto Impresa Pesca. In oltre 30 anni di fermi la flotta adriatica è diminuita di un terzo e l'importazione di pesce dall'estero è passata dal 27 a più dell'80%. Sicuramente la prima settimana sarà una settimana di assestamento ma possiamo dire che nei prossimi giorni il pesce affluirà in maniera importante sul mercato e ne risentiranno anche i prezzi a beneficio dei consumatori perché quelle specie che sono le specie target del fermo, le triglie, le gallinelle, le soglie e anche altre specie, le cannocchie, saranno il numero più ampio presente sui banchi delle pescherie e quindi questo ne risente anche i prezzi, i prezzi dovrebbero calare, quindi un invito a consumare pesce perché questo è il momento buono, è il momento in cui si può acquistare pesce, lo si può acquistare a buon mercato. Il blocco delle attività dei pescherecci per 30 giorni consecutivi in un paese come l'Italia che importa dall'estero 8 pesci su 10 nei territori interessati dal fermo biologico, secondo impresa pesca non porta benefici al mercato, peraltro aumenta anche il rischio di ritrovarsi prodotto straniero in tavola se non si tratta di quello fresco mai di in Italy. Secondo Giardini bisogna ripensare a un nuovo modello. Il fermo così come attuato da 35 anni non funziona, lo abbiamo detto altre volte, le importazioni sono passate in 35 anni dal 27% a oltre l'80% di prodotto importato, quindi teoricamente se facciamo un esempio un piatto su 5 è italiano, tutti gli altri sono piatti di importazione, quelli che consumiamo, questo è dovuto non solo ma anche in larga parte ad un fermo pesca che crea dei vuoti nel periodo topico dei consumi di pesce e questo poi determina il crollo anche dei prezzi alla produzione. perché il prodotto che arriva arriva da paesi del terzo mondo a prezzi molto molto bassi, il consumatore non lo sente, lo sentono abbastanza bene i pescatori che si vedono crollare i prezzi ai mercati perché diventano competitori di produzioni che vengono da paesi dove produrre costa molto poco.